Combustibili e alternativi per i trasporti marittimi, terrestri pesanti, ferroviari e aerospaziali, per ridurre le emissioni responsabili dell'inquinamento atmosferico. È uno dei temi affrontati nella Small Cayle Energy Use Euro-Mediterranean Conference and Expo alla Mostra d'Oltremare di Napoli, evento biennale dedicato allo sviluppo delle infrastrutture e delle tecnologie del gas naturale liquefatto in Italia nel bacino mediterraneo. Focus dunque sul gas naturale liquefatto, riconosciuto come la miglior fonte alternativa, già disponibile oggi e molto abbondante e andando a sostituire il gas fossile liquido con quello rinnovabile, biologico e sintetico, si permetterà ai mezzi di trasporto di rispettare i limiti internazionali e nazionali sulle emissioni. Nel settore dei veicoli a metano a fare dei pionieri è stata Iveco, che da ormai 20 anni ha investito in questa tecnologia, insieme alle soluzioni flessibili grazie a una gamma sul trasporto pesante che va dai trattori stradali alle motrici 2-3 assi fino alle combinazioni di veicoli dei ribassati. E continua a farlo come parte del gruppo Sienic Industrial e al fianco di FPT Industrial, che sviluppa e realizza i motori a gas naturale. Fabrizio Buffa, Gas Business Development Manager Iveco. Oggi effettivamente la realtà dei veicoli a gas è una realtà molto importante. Una produzione che ha permesso, grazie all'esperienza di questi 20 anni, di portare sul mercato oggi disponibili ai clienti una gamma assolutamente completa. Si va dal daily 3,5 tonnellate a metano compresso, si arriva, passando dalle orcargo, si arriva allo Stralis in forma di serie di trattore che è di motrice, con alimentazione metano compresso e metano liquido. Veicoli già pronti e già funzionanti anche con il biometano, biometano che permette una svolta sensibile nella riduzione del CO2, arrivando fino al 95% di riduzione. In questo senso la riduzione delle emissioni climaalteranti è un tema prioritario per l'Europa, ormai da anni, con un ruolo fondamentale per il gas naturale, come spiega Andrea Gerini, General Segretario NGV e Europe, l'Associazione dei Produttori di Veicoli a Gas Naturali in Europa. La Commissione Europea ha lavorato tantissimo e c'è stato un grossissimo dibattito che si è concluso poi con l'approvazione del testo per i primi standard, anche per il settore heavy duty, sulle emissioni di CO2. In questo ovviamente il natural gas gioca un ruolo fondamentale. Oggi i track, a seconda delle tecnologie motoristiche, possono offrire delle riduzioni allo scarico, che vanno dal 10% al 20% rispetto al diesel. E la svolta più interessante è quella data dall'utilizzo del biometano. Il biometano sia in forma gassosa sia in forma liquida, quindi di bio e l'NG, rappresentano veramente una grossa opportunità per accelerare una decarbonizzazione concreta. Il fattore della accessibilità e della sostenibilità a livello economico ovviamente rimane fondamentale. E in questo le tecnologie che utilizzano il natural gas sono già pronte per andare al 100% con combustibile innovabile, permettendo di fare un grosso passo in avanti nella lotta ai cambiamenti climatici.